Sono 13 anni che stiamo insieme, hai due opzioni, o mi sposi o mi sposi. Hai ragione, mi vuoi sposare? Veramente non saprei. Enzo vuole fare una cosa non pomposa. Ma 60 cesti di rose e 50 di fiori misti, io dove li metto? Dolly Bo, però io con voi ho fatto il battesimo, la comunione, la cresima, mi sono cliente. Ma voi siete fatti due conti. 850 euro mensili. 6.000 euro. 20.000 euro. Dobbiamo togliere qualcosa. E che vuoi togliere? Il matrimonio. 100 euro, neanche i soldi delle manci dei cani. Che quanto è? 200 euro. Sei di loro 200 euro. Noi non è che siamo proprio in viaggio di notte. Siamo la voce del lume, Germania. Dove è stato il tuo cucino? 5 minuti arriva. Tu sei la sposina. E l'ottico che posso mai essere? Che siamo qua da 5-6 ore a aspettarsi come dovevo avere sfortunato. Ma su te? Complimenti per la scelta. E' un bijou. Non ti preoccupare il tempo di pagare i debiti che abbiamo a Napoli e ce ne torniamo. Ho fatto il testo, feconda. E prima chi è arrivato? Solo tu le vuoi dire queste cose. Monica è feconda. E chi è prima? Non sono solo io, siamo due cretini. Io a Napoli ci voglio tornare in prima classe. Lui è il nostro amico, il tunisino. La birra. Non lo so se hanno una birra. La birra. Angor, ma che camminiamo con le birre nella tasca? La birra è un uomo, va giù, ma t'è a posto. Ma il tunisino è la tua forcella. Ragazzi, qui ci si deve portare avanti, eh? E quindi pensiamo già agli Oscar 2018. Eccovi quindi la lista dei ben 14 film di casa nostra che si candidano per contendersi il posto di rappresentante italiano ai prossimi Academy Awards. E sono A Ciambra di Jonas Ash Carpignano Cuore puri di Roberto De Paulis L'equilibrio di Vincenzo Marra Una famiglia di Sebastiano Riso Fortunata di Sergio Castellitto Gatta cenerentola di Alessandro Rack Ivan Cappiello Marino Guarnieri e Dario Sansone Ho amici in paradiso di Fabrizio Maria Cortese L'ora legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone L'ordine delle cose di Andrea Segre Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza e Fabio Grassadogna La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu La tenerezza di Gianni Amelio Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni E La vita in comune di Edoardo Winspear La sorpresa direi che è sicuramente la commedia di Ficarra e Picone Mentre al momento i favoriti sono il film di Amelio Castellitto e la pellicola animata Gatta cenerentola Voi cosa ne pensate? Credete che manchi un film candidato davvero forte? Oppure vi sembra che questi possano riservare delle sorprese? Fatemi sapere se li avete visti E quale vorreste come vincitore? Qua, nei commenti qui sotto Io vi aspetto al prossimo video come sempre Ciao da Valeria